Il Neuromed di Pozzilli tra i protagonisti del congresso della Società per le Neuroscienze Applicate che si è tenuto a Corfu in Grecia. L'ingegnere Luigi Pavone del Dipartimento di Bioingegneria dell'IRCS Neuromed è intervenuto presentando due lavori scientifici che attraverso strumentazioni e software innovativi puntano a migliorare le prospettive terapeutiche per i pazienti affetti da malattia di Parkinson e per quelli con epilessia. Il primo ha visto la collaborazione tra il Dipartimento di Bioingegneria con il lavoro dello stesso Pavone dell'ingegnere Fabio Sebastiano e l'unità di chirurgia dell'epilessia con il professor Vincenzo Esposito e dottor Giancarlo. Si tratta di un software chiamato SPEL che aiuterà i neurochirurghi nella complessa operazione di installazione di elettrodi all'interno del cervello. Il secondo lavoro realizzato in collaborazione con l'Università del Norte in Colombia ha riguardato specificamente l'epilessia. Gli ingegneri neuromed e quelli colombiani hanno infatti realizzato un software capace di analizzare automaticamente l'elettroencefalogramma e individuare i segnali che precedono la crisi epilettica.